www.moliciopoli.it, oggi 17 febbraio 2023, ci sono tante giornate mondiali, è la giornata mondiale del gatto, approfitto di questa giornata mondiale per riportare l'attenzione sul discorso delle polizze assicurative per cani e gatti. Vi porto poi qui la ricerca fatta da facile.it che dicono che in Italia ci sono molte famiglie che assicurano i propri coinquilini, cani e gatti. Il più assicurato in Italia è l'abrador retriever, leggo, e poi è la razza canina più tutelata. Invece per i gatti è il main coon, penso che sia quel gattone enorme, eccetera, eccetera, per quanto riguarda poi il mondo felino. Poi vi riporto le classifiche qui delle città, eccetera, eccetera. Ma tornando al sodo, è importante per quanto riguarda la tutela e la protezione del vostro gatto, del vostro cane, inoltre è le caratteristiche principali delle coperture assicurative sul mercato. Il costo di una polizza per quanto riguarda la responsabilità civile va da una media di 6 euro al mese fino a raggiungere i 12 euro se c'è anche, diciamo, la copertura veterinaria. La cosa molto importante che si sottolinea è che non bisogna dimenticare che affinché l'assicurazione sia valida e possa intervenire in caso di bisogno, l'animale deve avere microchip o tatuaggio, possedere il libretto sanitario ed essere regolarmente vaccinato, perché quando si ha intenzione di sottoscrivere la polizza assicurativa, il consiglio è di verificare attentamente tutti i fogli informativi e le tutele nel nostro interesse e nell'interesse del nostro coinquilino. Qui vi riporto alla ricerca, sottolineo sempre l'importanza di proteggere la famiglia con una polizza di responsabilità civile e includendo anche gli animali domestici. Io sono Maurizio Poli, educatore dei consulenti finanziari. Per chi volesse maggiori informazioni, m.poli-your-solution.it Il numero di telefono è 349-571-4319 e il mio sito è www.mariziopoli.it Proteggete voi, la vostra famiglia e i vostri inquilini. Alla prossima!